Sono otto le domande pervenute entro il termine di scadenza prorogato per altro di una settimana per il bando di reclutamento di un direttore generale al Coggesa. La selezione ed evidenza pubblica per titoli e colloquio è volta all'individuazione di un dirigente con funzioni direttore generale mediante rapporto a tempo pieno e determinato dalla durata di 36 mesi eventualmente rinnovabile di pari periodo o per un periodo diverso dove è ritenuto possibile dall'assemblea dei soci di Coggesa. Per le particolari caratteristiche delle funzioni dirigenziali periodo di prova avrà una durata di sei mesi. Il trattamento economico è di 75 mila euro all'anno. Nei prossimi giorni sarà nominata la commissione giudicatrice che avrà il compito di vagliare le singole domande per procedere con la fase selettiva. Intanto nel giro di una settimana sarà completato lo studio di qualità dell'aria che il comune di Sulmona ha avviato da 18 mesi nell'area di Noce Mattei per i noti problemi della discarica. A riguardo il consigliere comunale Maurizio Proietti ha chiesto in consiglio verifiche specifiche sui modelli e le modalità di campionatura. È stato invece respinto l'ordine del giorno delle minoranze presentato dalla consigliera Teresa Nannarone. Resta il contenuto assai urgente. Con l'atto si chiedeva ad intraprendere nel termine di 15 giorni tutte le azioni di responsabilità indicate dalla Corte dei Conti nonché di verificare la legittimità della revoca del ristoro ambientale di Coggesa.